Dopo l'intervento del consigliere comunale Oscar Aiello sulla Villa Medeo, la seconda commissione consigliare permanente ha effettuato proprio ieri mattina un sopralluogo all'interno dell'area comunale per verificare l'andamento dei lavori in corso già da qualche mese. Siamo andati appunto a fare sopralluogo, ad effettuare un sopralluogo alla presenza dell'ingegnere Garito, del dottore Sardo, dell'assessore Andaloro e dell'assessore Franciamone. Abbiamo visto quali sono i lavori effettivamente realizzati ad oggi e quali sono quelli ancora da realizzare. Abbiamo trovato l'impresa, nonostante si pensava che fossero sospesi, hanno ripreso. Hanno ripreso e stavano appunto trattando la facciata di un corpo di fabbrica all'ingresso nord. Hanno richiesto delucidazioni dunque sullo stato degli interventi, quelli già eseguiti e ancora da eseguire, dalla zona dedicata ai giochi per i più piccoli, ad esempio, alla fontana e il viale principale. I lavori eseguiti, abbiamo visto, ci riguardano i due corpi di fabbrica nella zona sud. Uno che è praticamente destinato ai bagni pubblici, ai servizi igienici pubblici, e l'altro ad un vallamagazzino con annessi bagni. Effettivamente lì abbiamo visto che dal punto di vista strutturale, quindi c'è la copertura, gli indoraci esterni sono tutti realizzati e definiti. All'interno manca qualcosa, però di fatto quello che purtroppo abbiamo rilevato, che è ancora il vialone principale, che non è roba da poco, non è nemmeno stato scarificato. Quindi è un lavoro importante, interessante, nonché la sostituzione di alcuni alberi per quanto riguarda il verde e il ripristino dell'illuminazione, con sostituzione dei corpi illuminanti praticamente in tutto il percorso. Per concludere, mi hanno garantito che verrà passata la tubazione per l'impianto futuro di videosorveglianza, questo lo ritengo tra l'altro un successo perché era stato il mio eventamento presentato a settembre che appunto chiedeva la collocazione di questi invianti, cosa che invece verrà fatta direttamente sulla Villa Cortola. La situazione è che dobbiamo tenerla sotto controllo e ahimè temo che i tempi siano molto stretti. L'impresa deve veramente lavorare perché il periodo, tra l'altro di piogge, potrebbe anche provocare dei ritardi naturali per imprevisti dettati dal tempo.